La mafia continua ad espandere i suoi interessi. Nel settore alimentare Matteo Messina Denaro, la primula rossa di Cosa Nostra, aveva messo radici a Varese e a Milano. Lo rileva la nuova inchiesta sui suoi beni che ha portato ad un nuovo colpo inferto al patrimonio della mafia di Campobello di Mazzara. Beni per un valore di 38 milioni di euro, riconducibili proprio al boss latitante e alla sua famiglia, quella mafiosa di Campobello, sono stati sequestrati dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Trapani. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale dell'Istituto di Prevenzione di Trapani su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Il sequestro avviene dopo l'arresto di esponenti di spicco dall'organizzazione criminale e l'individuazione di un ingente patrimonio comprendente aziende olearie, attività commerciali, abitazioni, terreni e numerosi rapporti bancari. L'intervento, come detto, si è concentrato nella provincia di Trapani, ma anche a Varese e a Milano. Grazie.